Profumo d'Elite, Enrico Bellei, Pikachu, J.B., Barbara, Renzulli, Paleo, Antonio Velotti, Pau, Alfredo, Duilio, in seconda fila, Prinzi, B. Power, Salvatore, Matera, Junior. Stacco, Perfect Baby si avvantaggia, sbaglia. Numero 4, Pantera del Pino, squalificato. Profumo d'Elite, di Galoppo, Pantera, di Galoppo, anche Pikachu, J.B., e così. Numero 6, Pikachu, J.B., squalificato. Così fuori gioco il favorito e il contro favorito, 200 iniziali in 13 e mezzo, Perfect al comando, Perseo che viaggia all'esterno, in corda Pilates, B, davanti a Prinzi, B, Power, più indietro, Pau, ancora più arretrato, Paleo, 28,9 su mio cronometro per i primi 400 metri. Adesso il passaggio a 600 in 43,6, Perfect e Perseo alle prese sulla retta opposta alle tribune, poi Pilates, Prinzi, ancora più indietro, Pau. Il passaggio a metà gara, molto veloce, in 58 appena scarso. Prosegue il visticcio fra Perfect Baby e Perseo d'Asolo, con Perseo che guadagna qualcosina al rivale, ma ancora non è passato. Il primo chilometro in 1, 12,1 sul mio cronometro, Perfect alla corda, Perseo che attacca, poi più indietro Pilates, Prinzi, gli altri lontanissimi. 400 metri alla conclusione, con Perseo sembra poter prendere la meglio, ma interviene Pilates, B, che per il momento ha fatto da spettatrice, e ora va all'attacco di Perseo che ha preso la meglio su Perfect Baby. Perseo si riprende, Pilates viene un po' in giù, deve lavorare sulla guida destra, Gennaro Casillo, alla fine Pilates, B, prende il sopravvento su Perseo d'Asolo, sono tutti molto stanchi, e nelle battute conclusive Pilates vince, Super Seo, poi Perfect Baby, Prinzi, B, Power e Paleo. Alla fine gli altri seminano e Pilates raccoglie. Pilates che vince con Gennaro Casillo, media direi intorno all'1, 14,5, quota di 7,81, il training è sempre di Gennaro, i colori sono della scuderia All Star.